Non mi fai, non è roba stabile, dai Troppo, per favore, è un po' di spazio, non è roba E' un po' di spazio, non è roba Non mi fai, non è roba Non mi fai, non mi fai, non mi fai Non mi fai, non mi fai Molto più facile, ci sono due anni Non mi fai, non mi fai Da solo, è veramente bello Insomma Adriano, se è colpa tua, se Sandro non sarà bravo Se Sandro, guarda e gli aveva scatenato e cominciava come uno spruzzo e si era la barba moce la bricola qua e dopo vai si, non si impara la bricola però premi premi che ne abbiamo la bricola ma non dai ma non dai ma tranquilli ma non dai ma dai non c'è una tia giri no no non si è bello si, faccio il video e apriamo solo il cellulare si potrà oh è molto male ho fatto le condizioni migliori se vuoi ho fatto una di acqua basta che penso ci arrabbi e questo fa ti faccio il video perchè è veramente bello un po' Quanto è nato? E' bellissimo! Quanto è vero? Quanto è vero? Se tu uno! Zeus! Sei Zeus? Tu sei finito! Non bello ancora adesso Adriano? Non bello qualcosa? Non bello! Vai Guido! Un applauso per Guido che sta guiderando per la prima volta la corsa! Ciao Guido! Questo è il video che stiamo... Guido! 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 Il fatto che qui è ritardo... Allora vai vai! E' ritardo perché sta per la prima volta facendo il contogliere Allora metti da sotto e dai la panca! Dacci sotto! Dacci sotto! Metti la sua pompa e ti chieda sotto! Così! Così! Gira! Gira! Gireremo! Gira il polso! Che gira! Ecco! Ma in trio! Ma un pochetti in trio! Ma un pochetti in trio! Allora quando che sei da soli che hai da stare in trio non ne lo vanno! In trio! Perché soprattutto quello è l'importante! Di assagata! Di assagata! Ecco qui! Di assagata! Così! Benissimo! Se ti riesci metti ancora! Ecco! Così! Così! Ti viene assagata! Non c'è che accende! Così! Guarda che unga che ti apparrea! Chi era di più! Chi era di più! Chi era di più! Gira di più il polso! Gira di più il polso! Ecco! Così! Molto bene! Piano! Muove se ti ampio! Bene! Gira il polso! Non hai dico la ora! No! V metabolismo! Guarda! Bro, di dubbio carino! Guarda, guarda, guarda! Sono bara! Guarda, guarda Mit unut하시는 audience! Adesso ti vedi la bandiera che ha spese e ti gira la barca che ha, quindi devi mettere la barca attraversata Adesso ti gira il vento che ti punta via la barca, devi contrastare questo vento, ti gira così, ti gira a prova sul vento Ma ecco, convoca a volto, ti vogli fremando a volto, praticamente non ti spesi, ti fa solo stagando Sì, però vedi adesso del vento, ti gira la barca attraversata Così, così Va tagliare il vento, va tagliare il vento, guarda il vento che arriva E ti gira la bandiera dritta, vuol dire che ti va bene Ecco, la bandiera dritta ti dà la possibilità di aver l'aria di fianco a destra e sinistra E non ti gira la spinta del vento in nessuna parte, spiega su la marea casomai Ragazzi, abbiamo appena sverginato Guido Allora bene, bene Bravo, bravo Guido Benissimo Vai, settimana prossima ti compi una gondola di sinistra e via Non porto una battaglia a terra La cittarella pensava di buttarli in un paese Vedi, vedi questo soldo Amici Anche con un pataglia Guarda di sinistra Ed è un po' di sede È un po' di sede Perchè La luce Stavo Guido, vieni, vieni, mettici in vento allora, bene, ottimo. A me quanto che sai il video, dopo ti abbiamo fatto il fine incontro. Beh, c'è il più ampio che ti sei noto, eh. Questo video che abbiamo fatto perché la moglie di Guido potrà andare in gondola da oggi, Guido è totalmente abile, sta guidando da solo, che lui potrà andare in gondola da oggi, vai vedere che non c'è la Tatiana nell'arrivo. Questo è Adriano Krautti, il responsabile di ritardo. Vuoi dire qualcosa alla moglie? Io non ho giustificazione, lui avrà la giustificazione che è avvocato a coppe e quindi arriverà con due ore di ritardo. Vai vedere che non c'è la Tatiana in barca perché... Non c'è, non c'è la Tatiana in barca. Non c'è la Tatiana, non c'è. Ma non c'è la Tatiana, non c'è. Ma non c'è la Tatiana, non c'è la Tatiana. Ma chi è la Tatiana? Come si deve andare a fare la Tatiana? Vorrei andare a fare il suo caldo. Dicolo, dammi una mano! No, guarda che qua... Niccolò, quando è che spise ho tenuto cascato? Vai, dai Niccolò, travi la mano... Ma stiamo parandoci comunque, sei fischiato? Adesso da Niccolò? Sì, sono un po' particolosi, non c'è. Vi voglio voi garanti Niccolò, voglio dirmi che siete. Niccolò, voi voglio garanti? Vieni qua Niccolò, dai... Vieni qua Niccolò, dai 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 dai... Andriano, andiamo via una volta, andiamo su, andiamo a casa, e fanno una volta fatta bene, cosa faccio 100 metri? Che cazzo metri, siamo andati giù per Venese, siamo andati giù per la laguna e la incontro. No, fanno la mattina fatto bene, piuttosto, domani, dopo domani. Perché per fare 100 metri, così mi sono già stata sverginata varie volte dalla gombola. Scusa, io e Sandro, ne ho fatto 100 metri e siamo felicissimi. Ma amico, si è fatta tante ore in mondo la felicità, fai così, dai. Siamo qui, dai. Anzi, facciamo un altro po' con Sandro. E dopo, ancora, non mi vedo, non mi vedo, non mi vedo, non mi vedo. Devi però, che va, no, bravi, bravi, bravi. Fino a volte che mi metto qua, andiamo qui che ne vedo. Bene, bene, bene così, giù. Drio in avanti, Drio in avanti. Sì, bravissimo, bravissimo. Dai giù, dai che siamo primi se rimpiniamo la medaglia, dai giù. Giù, dai chi fa, non mi vedo. Almeno, io ho fatto la fine. E ecco, non mi vedo, non mi vedo. su Rebo, su la via come è riuscita? 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 ok, bravo, si avanti quando bisogna andare premando perfetto basta gare basta gare ti agiri meno velocemente e basta no, ma tiralo fuori a remo dall'arco sta a stagare, ti agiri stagando tiralo fuori a remo che tiri fuori e ti abbarca a seguire subito poi tiralo fuori ma no, perché ti gare che sei in acqua non che sei a onde che ha una situazione ideale eh si un buon evento che la si passa bene è veramente una situazione ideale un po' di presa 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 è buce a casa servì come è servì? che buce è? 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 un po' di presa un po' di presa ma di giusto? quando hai visto che non è che remo stia fornato adesso si chiama che mi danno spesso avanti il foglio troppo premato tieni in acqua vai in acqua se ti vai in acqua e manca la cucina subito ma basta lo faccio i fili ecco così avanti avanti sento razione così bravo bravo avanti ancora ecco così bene 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 così bene bene socia staiando socia staiando socia staiando ancora ancora stai ancora fa un po' di drivel bravo così qui e adesso la entra e controlla ed è qua ed è qua stai arrivando la lanza del 118 quindi questo bisogna stare atteso perchè a standatura qua arriveremo con l'iva ea si parla di a se tante che si vede si te parli dopo che ti ma no anche il pulpitore scusami io non mancava questa roba si te parli di a tanto se tante che si vede si 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 adesso qui l'acqua è secante quindi staiando qui si 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 ci si 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 Pagando dopo 10 giri ti avuti bene. Adiano quanto sei da qua a Bipio? No, no, che da qua a Bipio? 50... E' da qua a Bipio? No, non ci sono. 70... Già, 60... E' da qua a Bipio? che giornata lì insieme a tutti quelle venghi occhi o non è stato? sì, grazie, grazie c'è una paura ma anche qua c'è una paura di tramagliare per non è una paura di parte dello caso che è in acqua è passato male è una paura che c'è in acqua 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 rimi in acqua, rimi in acqua questa onda qua, rimi in acqua andiamo a andiamo con le gambe via, vediamo qui vediamo prima, vediamo adesso l'acqua è in acqua quindi andiamo avanti con ci siamo pronti a dire i piedi dentro perché altrimenti la marea che c'è tutta via stiamo facendo una manovra del giorno vediamo vediamo quindi se le tante posizioni la marea vieni da destra nella metodo nazionale e i piedi dentro in tutta giunta così, vieni da così docemente adesso che ti cazzo posizionò via a metriere il piede a sinistra si tratta un'avvocata infiltrata l'entroppo in grado è troppo in avanti Così, si avanza avanti, da su, e ha l'abricola qua, rinolle, c'è non più aventi, ma ti ha l'abricola. Stiamo portagando, ecco, così, bravo. Bravo Guido, bravo. E' così, prima, la bricola a sinistra. A sinistra o la seconda, bricola? No, la bricola qua, non vi amici, ma vuoi a sinistra? Adesso, stia da verso la bottiglia, avanti così, stia di così. Stia di così, stia di un po' premando, stia di un po' premando adesso, prende un po', prende un po'. Stia di un po' così, stia la bottiglia. Adesso, mi sono capito, adesso la vedo, adesso, che è la bricola di piedi, ti vedi, è la bricola? Ecco, viene a sua destra l'abricola. Stia di questo a sinistra o te? No, tu che non vedevo. Ah, ah, adesso lei ha capito, sto a sentire. Adesso la vedo, adesso la vedo. Allora, se apri qua l'avanti, che non vedevo, stia di sua destra, stia quasi all'abipa. e adesso è capito, così è vero che è la prima vediamo così, se è quello lì e lo so, a questo punto lì e lo so premando bene, bene piano, piano, va piano piano, ti fa mano piano quando ti fa piano, ti fa le dici no, no no, io ci leggo la parte qua e qua che sei e qua l'avevo la parte una lancia che ne puoi lasciare di più e se non è tornare e se forca fuori a polenzio è tutta a sinistra è tutta a sinistra a voi disturbi ma che bene se non è tornato vedi ti vedi? sei andato? no, sei andato? e voi disturbi, Adriano voi disturbi a me lo compiaref. Adriano, per favore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.